Barra inversa. Buenos Aires, Argentina, dopo la convocazione dell'Italia di Roberto Mancini e le due prime partite con la maglia azzurra. A segno sia contro Inghilterra che Malta, Matteo Retegui ha scatenato l'interesse di numerosi club europei per la prossima sessione di mercato. L'attaccante del Tigre ha parecchi estimatori in Serie A, Inter su tutti, ma secondo quanto riportato dai media argentini anche un club tedesco si sarebbe unito alla corsa. Retegui non si ferma più, gol decisivo al 99 contro il Lanus Retegui, si fa avanti l'Eintracht sul centravanti della nazionale e si sarebbe fatto avanti anche l'Eintracht francoforte. Con i tedeschi che potrebbero cedere Colomuani e Rafael Santos Borra per fare spazio in avanti al giocatore. Retegui è attualmente di proprietà del Boca Juniors, ma il Tigre può rilevare il 50% del cartellino versando 2.3 milioni di dollari. Intorre ha una clausola recessoria di 15 milioni di euro. virgola. Grazie. 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 Grazie.